Era comunque Buonora, era un giocatore pulito che gestiva la squadra, che faceva girare la palla, che comunque dava una tranquillità a tutti quanti quando era in campo. Bosch ha gestito il gruppo, è riuscito a dare lo spazio a tutti, è riuscito a fare in modo che ognuno potesse essere l'artefice della vittoria, quindi non avevamo più solo un punto di riferimento ma tanti punti di riferimento. Questo è stato il lavoro che Bosch l'ha fatto bene e ha portato a raggiungere i risultati.